Assessore Di Matteo, state lavorando sulle nuove norme per quanto riguarda l'edilizia pubblica, di cosa si tratta? È una grande riforma che vuole allargare il sistema di operatività all'interno dell'edilizia garantendo in maniera più seria l'edilizia sociale. Questo è il nostro progetto che va in direzione di risparmiare i costi per i sistemi dirigenziali di questa struttura riunificando non più cinque strutture ma un'unica struttura gestionale con cinque distretti che poi continueranno a lavorare con i loro operatori territoriali ma che già questo rappresenta una grande economia. Un altro aspetto importante è il collegamento con gli enti locali, devono avere un ruolo fondamentale nell'organizzazione del nuovo sistema. Io vengo dal mondo della pubblica amministrazione, ho fatto politica più nelle pubbliche amministrazioni che capisco bene quali sono le difficoltà nei comuni per garantire le tante richieste di edilizia sociale. Con i comuni che faranno parte integrante del sistema di controllo e di monitoraggio della nuova azienda noi riusciremo a dare un contributo che è pertinente alle reali esigenze dei territori. Questa riforma punterete anche ad un risparmio di costi? Ha un forte risparmio dei costi con la riduzione di tutti i direttori e sistemi di governo di queste aziende che sicuramente vanno a pesantire il meccanismo in una situazione difficile. Se voi pensate che riducendo questi costi potremmo fare una serie di case in più con dei mutui, tantissime case in più io preferisco ridurre delle poltrone di disponibilità a persone che per anni hanno fatto in questo mondo i risultati che poi abbiamo davanti agli occhi di tutti e favorire la possibilità di costruire nuove abitazioni per la gente che ha bisogno.